Musica 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 Ancora una giornata insieme, ben ritrovati Cari amici siamo qui a Canale Italia Pole Position in questa giornata che vogliamo iniziare nel migliore dei modi parlando di una realtà di eccellenza di Bologna che si chiama High Skill e che si occupa di Management Consulting Allora è un tema importante per i nostri amici imprenditori e professionisti che ci seguono ne parliamo con la dottoressa Larisa Mancini, buongiorno Buongiorno Grazie per essere con noi Grazie a me manager delle risorse umane di High Skill Allora Management Consulting che cosa significa? Beh intanto diciamo che la nostra azienda nasce da un'idea di quattro imprenditori con esperienza pluriennale nel Management Consulting e in anni diciamo tutt'altro che facili nasce infatti nel 2009 con l'idea, il progetto, il sogno di aiutare le PMI ad essere più competitive in un momento di grande difficoltà e forte cambiamento Ecco la vostra peculiarità qual è? Allora diciamo che in questo momento si sente in una situazione così delicata si sente molto parlare di cambiamento e innovazione noi forniamo una gamma di servizi che servono all'imprese, servono all'imprenditore per comprendere e gestire questo cambiamento in pratica diciamo che aiutiamo le aziende a cambiare il loro business e a renderlo più profittevole nell'attuale situazione di mercato Il vostro slogan è Upgrade Your Life Esatto Niente di meno Esattamente Bene, è bello perché è decisamente molto vincente Sì perché in pratica il nostro lavoro è un po' si potrebbe descrivere con una metafora informatica facciamo un po' l'upgrade di un software Certo In pratica potremmo dire che teniamo quanto c'è di buono in un'azienda installiamo qualcosa di nuovo per correggere i bug in modo tale da permettere al software di operare bene nel sistema operativo Ecco un po' un approccio quasi di coaching se si può dire così Assolutamente sì Qual è il vostro approccio alla formazione? Beh intanto per noi la formazione deve essere breve, frequente e intensa non ci consideriamo dei docenti e non abbiamo dei corsi a catalogo ogni nostro intervento diciamo che è ritagliato sull'esigenza dell'azienda perché ogni azienda ha delle caratteristiche peculiari da cui non si può prescindere e abbiamo una metodologia nostra che si chiama Governance 360 che è frutto della nostra esperienza di questi anni sul campo che ci permette di trasferire all'imprenditore e ai manager un know-how che consente di gestire l'azienda a 360 gradi Un corso di formazione può essere misurabile? C'è un'unità di misura? Assolutamente sì, può e deve essere misurabile Noi siamo da questo punto di vista fanatici dei risultati ed è un valore che cerchiamo di trasferire anche ai nostri clienti Per noi il successo di nostro cliente ci è dato dal fatto che gli indicatori economici dell'azienda stanno migliorando ed è una cosa che noi monitoriamo spesso Qual è, dottoressa Mancini, la difficoltà, l'errore anche più frequente degli imprenditori che riscontrate? Beh, diciamo che in questo particolare momento l'atteggiamento che ha l'imprenditore è piuttosto attendista cioè diciamo che un po' per prudenza, un po' per paura tendono ad essere fermi si è persa la capacità di immaginare l'azienda da qui a 2-5 anni e la prima cosa che noi diciamo agli imprenditori è che questa nuova realtà è una realtà con cui devi convivere non è destinata a perdurare Certo, va bene Io ringrazio la dottoressa Larisa Mancini per essere stata con noi Grazie a voi E' un'azienda manager di Highskill Bologna ricordiamo Management Consulting quindi per tutte le aziende che magari oggi anche ci hanno seguito e domani un'altra azienda sarà in nostra compagnia un'azienda, un professionista lo scopriremo domani mattina alle 7 puntuali sul 136 Pole Position Grazie a tutti